salve amici come detto ma non promesso prima care amiche ed amici anche se il giorno del mio compleanno mi sento di fare un nuovo video sui libri questa volta non vi parlerò di osho rainish di bhagavansri rainish ma vi parlerò di questo libro il mistero del silenzio di di malata car edito da obaldini editore roma che di malata cal otta car di malata car nata in india studiosa e filosofa orientale occidentale all'università di nagpur fu discepola di krishnamurti meditazione non è sedersi occhi chiusi vuol dire liberare la mente dalla nostra ossessione di sperimentare acquisire conoscere imparare qualcosa permettendo così al silenzio di manifestarsi perché è importante il silenzio si domanda di malata car e ce lo domandiamo anche noi dovremmo domandarcelo innanzitutto perché diamo riposo alla nostra mente al nostro cervello e poi perché viviamo così assorti in un mondo sempre più convulso ossessionato da informazioni notizie attualità uno mondo che si attualizza sempre che veramente ci ossessiona anche le mire zolla se non mi sbaglio in quest'opera che vi commenterò in un altro momento ma di cui ho sempre parlato e le mire zolla che cos'è la tradizione anche lui spiega in sostanza negli stessi termini che vi mala e che osho rainish che il silenzio è più importante della parola ma non è soltanto un adagio saggio è veramente così perché senza pause tra una parola e un'altra non si capirebbe nulla senza uno spazio un vuoto anche metafisico fra un pensiero e un altro ci sarebbe soltanto un pandemonio nel nostro cranio senza una pausa un silenzio fra una nota e un'altra non ci sarebbe il ritmo non ci sarebbe ad armonia non ci sarebbe melodia non ci sarebbe genere musicale perché sarebbe tutta una cacofonia di suoni quindi il silenzio è importante nelle nostre vite e con la meditazione senza cercare di bloccare i pensieri nel cervello ma lasciandoli fluire come l'acqua di un fiume nel suo corso naturale impariamo a osservare a tacere impariamo l'importanza anche di prendere distanza dai nostri pensieri e osservarli in piena tranquillità in piena pace intellettuale cioè impariamo a essere distaccati razionali freddi quando serve perché che cos'è una serie di pensieri che non conducono a nulla che cos'è una serie di armonie che stanno in disarmonia tra di loro non poi tutto il tempo come questa musica house elettronica non lo so a volte è bello ascoltarla un po però mi immagino le persone che stanno ore e ore per quello la differenza fra certo genere di musica ossessiva e di mantra perché nel mantra è importante il silenzio per quanto il mantra ci abbia una struttura logica e razionale nel momento della meditazione quando tu reciti o mani padmeum o mani padmeum o mani padmeum l'importante non è fissare sulla verbalizzazione ma è fissare sulla pausa su quel momento in cui finisce ed inizia di nuovo è un po come la meditazione sulla respirazione non è in sé importante come respiri perché quella è solo una ginnastica è importante fissare l'attenzione nel momento stesso in cui cessa una respirazione ed inizia un'altra che è un momento ineffabile quindi con questo nuovo video tutorial spero che riuscirete a meditare in silenzio vi lascia il vostro santenchan che oggi compie 49 anni condividete il video se vi piace e like grazie